Il buon Francesco Facchinetti sarebbe stato cagredito e lui stesso avrebbe denunciato tutto su Instagram facendo sapere di essere cagredito verbalmente mentre ha fermato un sermanfono. Il famoso figlio di Robby Facchinetti avrebbe raccontato che un uomo sulla cinquantina di anni gli si sarebbe avvicinato con l'auto, avrebbe abbassato il finestrino, avrebbe sputato e gli avrebbe detto figlio di puttana mori. Lo sapete che sono fumantino, le mamme non si toccano, così ha detto Facchinetti a risdolissa. La reazione sarebbe stata più violenta se non fosse intervinto il collega che era in macchina con lui. L'episodio ha spinto l'artista, un giovane artista, a raccontare la sua vita e i pregiudizi di cui purtroppo è vittima da sempre. Chi invidi è mediocre, avrebbe scritto Facchinetti. Io torno alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa incassato con la tua auto di merda. Così avrebbe detto all'uomo che ero aggredito. E poi Facchinetti avrebbe aggiunto, ad ultimo, mi dicono figlio di papà da quando sono nato, prima o poi si stancheranno. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Questo video non vuoi reddere la prevede di Facchinetti Junior, ma soli informare eventuali persone. C'è l'Ariandro Naro di Italia.